Il Consiglio europeo discuterà poi, secondo grande tema, di lotta alla frode e all'evasione fiscale internazionale. In questa difficile stagione in cui tutti gli Stati membri chiedono sacrifici pesanti ai propri cittadini per il risanamento delle finanze pubbliche, la lotta all'evasione e alla frode fiscale è anzitutto imperativo morale, dovere ineludibile. Senza dimenticare che si tratta di un elemento essenziale per assicurare l'equità e la fiducia nell'efficienza del sistema fiscale.